questo programma è offerto da mercoledì 28 ottobre ben ritrovati con la rassegna stampa di 7 tv anche quest'oggi il nostro consueto sguardo ai principali quotidiani locali e nazionali ecco la regia tra qualche istante inquadrerà i giornali perché dedichiamo l'apertura di oggi al sole 24 ore non a caso perché abbiamo ospite dei nostri studi quindi affronteremo anche le tematiche che riguardano un po la finanza e l'economia con il direttore generale della banca mi aiuti a dire la nuova come dire ancora banca del cilento e lucania sud ecco se la fusione che stiamo portando avanti andrà felicemente in porto si chiamerà banca del cilento di sassano e vallo di diano e della lucania perché a questo punto possiamo togliere il sud in quanto con questa operazione arriviamo alla parte nord della basilicata e quindi non c'è più bisogno è chiaro che durante questa rassegna stanza ci occuperemo anche della nuova fusione della banca del centro lucania sud con quella di sassano la seconda fusione ecco nel giro di pochi anni per quanto riguarda la banca del cilento ma ci arriveremo tra qualche istante io ecco qui dinanzi a me il sole 24 ore poi subito dopo ho il mensile il quotidiano di informazione che esce ogni quanto ogni mese ogni mese ecco che arriva proprio dal cuore della banca del centro lucania sud banca aperta e tra le notizie che troviamo in primo piano anche un suo intervento su quello che è stato il flusso ecco anche turistico dell'estate 2015 è chiaro che attraverso il lavoro della banca è possibile avere anche un quadro di quella che è la situazione economica del nostro territorio come è andata direttore ma diciamo che come ho scritto nelle prime righe di questo articolo un'estate un'estate così non si vedeva da diversi anni cioè nel senso che quest'anno è stata un'estate positiva per i flussi che abbiamo registrato la nostra presenza capillare specialmente sulla fascia costiera ci consente di fare le stime di quelle che sono i flussi di incasso che fanno i vari esercizi commerciali e anche diciamo quelle che sono le iniziative economiche dei privati che durante il periodo estivo in questo territorio trovano la loro massima espressione economica ecco lei parla di un incremento delle presenze turistiche del più 30 per cento queste sono date che ci vengono proprio dagli operatori degli operatori perché noi abbiamo circa l'ottanta per cento degli operatori turistici in particolare alberghi e villaggi turistici che ci sono su tutta la costa diciamo più o meno da acciaroli a nord di acciaroli fino in calabria fino a tortora e quindi passando tutta la costiera cilentana nel centro sud più una parte della basilicata inizio della calabria il territorio diciamo da questo punto di vista ha registrato dei flussi abbastanza omogenei è chiaro che è concentrato un po sulla costa abbiamo la risorsa male noi parliamo esclusivamente di quelli che sono i flussi turistici estivi costieri insomma legati alla balneazione in parte spontanea come dico nell'articolo in parte invece targhettizzata perché legata a quelle che sono i pacchetti turistici venduti dai vari operatori economici ecco questo che cosa significa che la crisi è superata significa che siamo sulla buona strada dire che è superata diciamo è un po' è un po' presto perché perché come ho avuto modo già di rappresentare in altre occasioni questo è un territorio che vive di economia indotta che significa economia indotta significa che se ci sono flussi economici positivi che si generano da altre parti nel periodo estivo che è il periodo di migrazione diciamo balneare se vogliamo gran parte delle famiglie della conurbazione napoletana migra verso questi verso questi territori ma in verità devo dire che ormai non è solo l'ambiente napoletano ma c'è una buona presenza anche di stranieri non solo ma anche del centro e nord italia abbiamo registrato in diversi villaggi questo poi segnala un altro fenomeno positivo che è quello della crescita dell'imprenditoria turistica locale che ormai va sempre di più trasformandosi da un'imprenditoria diciamo quasi naturale che erano quella dell'affitto delle case degli anni 60 70 80 e anche 90 qualcosa esiste ancora a quella che invece è un'economia targhettizzata che invece si basa su quelli che sono flussi turistici intercettati in tutta Italia e direi in tutta Europa dalle agenzie turistici e dai tour operator ecco questa ripresa naturalmente lei parlava prima del più 30 per cento un dato fornito dalle imprese turistiche questa ripresa ha riguardato quindi gli imprenditori privati o in qualche modo ecco anche il pubblico diciamo che è la trasformazione di quelli che sono i flussi privati e di imprese che noi abbiamo registrato su quelli che sono i conti i nostri conti e vista la presenza che mi dicevo di quasi l'ottanta per cento diciamo che sono tutti i nostri clienti possiamo fare una stima di massima però devo dire questa stima trova riscontro in quelle che sono le associazioni degli industriali. E' chiaro che noi non abbiamo le grandi industrie la nostra risorsa è il mare il turismo quindi voglio dire se c'è stata una ripresa siamo stati baciati dal signore perché abbiamo un bel clima un bel mare bellissimo territorio che sarebbe anzi da sviluppare ma su questo voi sapete che ci stiamo ci stiamo impegnanti molto a livello di istituzione. Che ruolo sta svolgendo la banca anche a supporto delle imprese turistiche? Esatto noi con la parte della banca che si interessa del sociale e questo il maestro è il nostro presidente il professore Avvocato Castiello diciamo stiamo cercando di destagionalizzare un po' i flussi turistici basandoci su quelli che sono il turismo culturale invitandoli attraverso la individuazione di eventi, di manifestazioni e anche di e anche di proprio di veri e propri aggregati di carattere culturale. Non ultimo diciamo sono state tutte le mostre che abbiamo fatto di pittura sul De Matteis e anche qualche altra cosa che faremo a breve perché senza nulla togliere le altre realtà però se negli ultimi anni qualcosa si realizza su questo territorio anche a livello sociale ecco di momento culturale e grazie soprattutto all'impegno, al sostegno della banca del Cilento e Lucania Sud. Un momento particolare gli enti talvolta non riescono a dare risposte e grazie proprio al contributo economico della banca si riesce a realizzare qualcosina. Sicuramente ma questo è stato un po' il fiore all'occhiello del nuovo corso della nuova amministrazione che ha inteso aprire la banca al territorio, al sociale e anche in qualche modo liberarla da quelli che erano dei vincoli troppo stretti in ambiti troppo diciamo specializzati. Un modo anche per avvicinarsi alla comunità. Però devo dire che non per contraddirla assolutamente ma per integrare quello che lei ha detto che ultimamente anche il parco sta facendo qualcosa. Anche se lì poi c'è tutta una problematica di carattere politico che non ci riguarda ma però che registriamo perché purtroppo è una, come dire, è un freno a tutto quello che potrebbe fare, che potrebbe fare e che per troppo non fa. C'è una collaborazione con gli enti territoriali, questo è importante perché lo sviluppo e la crescita di un territorio arriva proprio grazie a queste importanti collaborazioni. Le sinergie che si creano a prevariente. Allora sfogliando sempre il giornale Banca Aperta, ecco c'è un altro articolo che sicuramente merita attenzione. La Banca del Centro Lucania Sud negli ultimi cinque anni, soli meno, dice gli ultimi cinque anni sono stati molto intensi sul piano delle attività e arriveremo anche alla fusione di cui parlavamo in apertura. Prendo spunto da questo per dire sì gli ultimi cinque anni però ecco avete festeggiato, quest'anno festeggiate il venticinquesimo anno di attività. La Banca quest'anno l'8 agosto ha compiuto 25 anni e questo è stato un bel traguardo perché se pensate che tra le BCC della Campania noi restiamo comunque forse la penultima nata perché dopo di noi è nata solo la BCC di Napoli che è avvenuto cinque anni fa. Quindi diciamo siamo una tra le banche più giovani e ciò nonostante siamo la banca più giovane e per la particolare conformazione anche del patrimonio delle BCC noi possiamo essere particolarmente soddisfatti perché noi oggi ci apprestiamo a diventare stabilmente la prima banca della Campania, la più grande banca della Campania. Con la fusione, con la nuova fusione. Allora gli ultimi cinque anni però ecco sono stati quelli determinanti per portare. Gli ultimi cinque anni sono stati anni molto molto importanti per la banca perché c'è stata una vera e propria svolta, come lo dicevo prima, una come dire quasi una esplosione di quelle che erano le potenzialità della banca che adesso stanno venendo completamente fuori e devo essere sincero, non credo che ci siano altri esempi di questo tipo in Italia, è difficilissimo che una banca che ha fatto una fusione dal 2012, quindi sono appena due anni e mezzo, tre anni, oggi ci accendiamo a farne un'altra della medesima dimensione con la BCC di Sassano che ci porterà a diventare stabilmente la prima banca della Campania ma anche di tutti i territori a sud di Roma. Giusto per rendere l'idea di quello che lei sta dicendo, diamo qualche numero, la regia ci può proporre anche la cartina attraverso la quale possiamo far capire i nostri regionale, parte dal giallo e arriva al blu, c'è la Campania, la Campania noi eravamo presenti fino al 2011 solo in quel pezzo di blu che è a sinistra e avevamo 11 filiali, 11 filiali. Quindi l'origine della banca del Cilento e Lucania Sud. Dopodiché poi con l'aggregazione della Lucania Sud ci siamo estesi fino a Policoro, fino all'Oionio, diventando praticamente una banca che abbraccia i due mari, il Tirreno e l'Oionio. Con questa nuova operazione invece che stiamo portando avanti, ormai diciamo siamo alla fase dell'approvazione del progetto industriale di fusione, è già una realtà nel senso che già avuto i crismi diciamo della ufficialità del progetto. Mancano gli ultimi dettagli. Mancano i dettagli diciamo di tipo autorizzativo ma anche burocratici se volete di tipo amministrativo. E diciamo con quest'altra operazione invece noi entriamo proprio stabilmente in Basilicata e nella parte nord della Basilicata perché attraverso le filiali e il territorio che attualmente esprime la BCC di Sassana arriviamo fino a Potenza con tutti. Che conta quanti filiali? La BCC di Sassana conta sei filiali come quella della Lucania Sud. Quindi alle 17 filiali che noi adesso abbiamo si aggiungono le altre sei e diventeremo 23 filiali su un territorio sempre di tre regioni e quattro e quattro province. L'unica BCC italiana che ha questo tipo di estensione. Quindi lei diceva la più grande della campagna? È la più grande a sud di Roma. A sud di Roma. Fino a stabilmente della campagna, della Puglia, della Basilicata. Però voglio dire, lo dico in modo molto tranquillo perché in effetti è il, come dire, è un percorso che noi stiamo, che stiamo seguendo, è un cammino che stiamo facendo da un po' di anni che ci porta quasi naturalmente a queste cose. Non voglio dire altro però noi oggi siamo nella condizione in cui ci chiamano altre BCC più piccole per cercare di fare qualcosa assieme anche di altri territori. E purtroppo noi con le nostre forze possiamo fare un passo alla volta.